21 8 24 buongiorno con energia giornaliera buongiorno 21 il mondo le possibilità possibilità di iniziare un qualcosa di nuovo possibilità di chiudere un qualcosa possibilità di fare pace oppure possibilità di chiudere una pagina aprire un'altra pagina ma siccome anche astrologicamente parlando viviamo una situazione abbastanza particolare oggi c'è la possibilità di risolvere ciò che non avete risolto prima di fare pace di terminare lavori e di risolvere un problema per esempio se qualcuno ha difficoltà fisica oppure non avete mai trovato per esempio dottore adatto per guarire le vostre malattie oggi la giornata adatta per fare le ricerche per aprirsi il mondo per chiedere a se stessi come posso risolvere questa situazione 11 energie in positivo 5 in negativo ciò che vuol dire oggi importante dedicare il tè energia numero 11 chiede di non essere addormuti fisicamente mentalmente parlando però abbiamo energia numero 5 in negativo 5 papa cerca sempre di strutturare tutti e insegnare come bisogna vivere la vita io ho ragione tu non hai ragione quindi cerca oggi di essere più flessibile più morbido non parlare solo ascolta perché oggi puoi trovare le risposte alle tue domande molto probabilmente per risolvere il problema che c'è devi ascoltare la parte opposta in più abbiamo energie particolari programmi particolari della matrice del destino che si chiama l'anima oppresse ma anche viola violazione della gerarchia si dice così spero ciò che vuol dire che oggi importante prendere il posto proprio se sei un'amica devi fare parte della un'amica se vuoi che questo rapporto funziona allora devi fare qualcosa per far funzionare qualcosa se vuoi diventare un qualcuno devi fare un qualcosa cosa